Grazie. Con la scelta di coinvolgere gli iscritti alla piattaforma Rousseau per il sì o per il no al governo Draghi, il Movimento 5 Stelle accontenta dunque la base. Il programma del Presidente incaricato, l'elemento di discussione nel PD Italia Viva e l'EU. Alfredo Cardone e poi Barbara Romano. La decisione era nell'aria da giorni, l'annuncio alla vigilia del secondo giro di consultazioni alla Camera. Il Movimento 5 Stelle si affida al voto su Rousseau. Saranno gli iscritti a scegliere se aderire o meno al governo Draghi. Una consultazione della base tra mercoledì e giovedì, cioè dopo la sintesi del premier incaricato. In questo modo, chiarisce il reggente Crimi, avremo elementi chiari, ma il coinvolgimento della base risponde anche al tentativo di sedare il malcontento e le tensioni interne. I giornali parlano di un braccio di ferro grillo casaleggio sui quesiti da sottoporre agli iscritti che il garante vorrebbe formulare personalmente. Temi, obiettivi comuni e interessi per il paese. Questi sono gli argomenti che porteremo oggi al tavolo col presidente incaricato. Ascolteremo con attenzione e daremo l'ultima parola ai nostri iscritti. Il fronte del no al governo Draghi, dubbiosi sarebbero una quarantina di parlamentari, si compatte in vista della consultazione su Rousseau e lancia un'iniziativa online sulla piattaforma Zoom V-Day, no governo Draghi, il titolo dell'evento. Confrontiamoci con serietà, senza fumo negli occhi, scrive Barbara Lezzi. Il movimento non può accettare di condividere il governo con Lega e ancora di più con Silvio Berlusconi. A stretto giro la controffensiva dell'ala Pro Draghi, che risponde sui social con il D-Day, prendendo in prestito l'iniziale del nome del premier incaricato. Il PD sta alla finestra in attesa del verdetto di Draghi.